A Terra Nuova Bracciolini sono previsti tutta una serie di interventi per la manutenzione delle strade. A Terra Nuova Bracciolini continuano i lavori di manutenzione delle strade, quindi lavori pubblici anche per questa estate. A che punto siamo? Anche le ville avranno la sua manutenzione strade. Abbiamo messo in piedi in questa estate all'incirca 200 mila euro di investimenti per quanto riguarda la manutenzione delle strade comunali. Sono già in corso alcuni lavori e altri sono in fase di appalto. Abbiamo tre tipologie di intervento, tre appalti distinti. Il primo è in essere da 125 mila euro e che ha visto già la risfaltatura di parte di via Fazia, via Garibaldi, la parte di strada delle ville, la zona di Poggio Arronco, Poggio Orlandi e la strada di Ganghereto. In questo intervento è previsto anche il rifascimento del parcheggio delle ville. Questo intervento è appunto in fase di ultimazione. Gli altri due interventi, che sono due appalti distinti, uno localizzato nella frazione della Cicogna, che prevede anche lì una riasfaltatura e una riasfaltazione delle acque all'interno del centro abitato, ed inoltre un allargamento della curva e una messa in sicurezza della strada che scende giù verso l'ascione. E' l'ultimo intervento che abbiamo programmato di svolgere e quindi di eseguire nel mese di agosto, in modo da dare meno problemi possibili ai cittadini e anche ai commercianti, la via Roma di Terra Nuova. Questo intervento è un intervento che ammonta 45 mila euro e che prevede... Grazie. Grazie.